Un pomeriggio dedicato alla solidarietà e sono insieme con la presidente dell'associazione ASSO, Susanna Rigato, per parlare di che cosa hanno organizzato oggi pomeriggio con una gara di burraco. Allora, innanzitutto la vostra organizzazione, lei è un neo eletta presidente, organizzazione presente nel territorio da tanto tempo. La nostra associazione è presente nel territorio da quattro anni, questo è il quarto anno che stiamo operando nel territorio sandonatese. Utilizzando il gioco di burraco abbiamo finalizzato molti progetti di solidarietà. Il progetto odierno che andiamo a sostenere, ed è per il terzo anno consecutivo, riguarda la gestione di alcuni progetti del centro La Magnolia. L'associazione La Magnolia è un centro di violenza anti-stalking che ha sede a San Dona di Piave e fa parte della fondazione Ferioli Bo, che è una onlus appunto riconosciuta dalla regione del Veneto. Noi ci occupiamo di violenza domestica, quindi violenza in confronto delle donne e dei bambini e in particolar modo dello stalking. Quattro anni di presenza nel territorio ma in modo partecipativo, appoggiando e contribuendo in modo concreto alla realizzazione dei progetti di diverse associazioni. Abbiamo collaborato con la Caritas, con la San Vincenzo, con il centro Acras che sostiene le vacanze estive per i bambini autistici, l'anno scorso con le Sor Optimist, alcuni service del Lions. Visti i crescenti casi di violenza intesa in senso generale, sia fisica che psicologica, non casuale è la scelta di devolvere il contributo all'associazione Magnolia. Il pomeriggio è stato anche un momento di condivisione e informazione, perché la prevenzione passa anche attraverso la sensibilizzazione. Abbiamo deciso quest'anno di utilizzare questi preziosi fondi, dei quali appunto adesso ringrazieremo la ASSO, è quella di prenderli e utilizzarli per aprire uno sportello antiviolenza, cioè uno sportello di consulenza, presso l'Istituto Cornaro, l'arberghiero di Eso, che è un bacino di utenza di più di 1200 studenti. E quindi stiamo facendo un progetto con loro per far cosa? Per far capire agli studenti, quindi ragazzi giovani, che devono dire no alla violenza, qualsiasi esenza sia, sia domestica ma anche all'interno della scuola, perciò parliamo anche del bullismo, quindi violenza in generale, e formare poi questi ragazzi che a loro volta siano delle sentinelle attente contro la violenza, sia a livello familiare ma all'interno della scuola. Quindi facciamo uno sportello di ascolto, di aiuto e anche di formazione di questi ragazzi che sono a questo cornare, che è un bacino di utenza molto elevato, che viene da tutta la provincia e anche fuori regione. Il fondamento di ASSO è l'amicizia, perché proprio da un gruppo di amiche nasce l'associazione, che vede saldamente unite la passione per il gioco del burraco e i valori alla base dell'amicizia, cioè la condivisione e l'altruismo. Il gioco del burraco è un gioco molto seguito e molto amato da tante persone di tutte le fasce di età e di tutti i livelli, e quindi abbiamo cercato di unire l'utile al dilettevole, cercando appunto di utilizzare così questa passione, ai fini benefici, per raccogliere dei fondi. Nello specifico il pomeriggio di oggi, quante persone ci saranno? Come funzionerà? Oggi intanto ringraziamo il signor Pasini, che è il proprietario di questa struttura che ci accoglie, che è la Casa dei Racconti, che ci ospita. Abbiamo 28 tavoli, quindi un totale di 112 partecipanti. I premi e i regali, perché ovviamente i nostri premi sono tutti dei doni, che qualcuno, qualche negozio, qualche azienda, eccetera, ci ha dato, ci ha donato, andranno a premiare i più meritevoli e i più bravi in questo torneo.